Il doppio tramonto di Barga, fenomeno naturale che ogni anno richiama decine di appassionati di foto ed astronomia per assistere al sole che tramonta due volte dietro il monte Forato sulle Apuane, anche per stavolta non si è presentato all'appuntamento. Le nuvole di questo autunno piovoso e grigio hanno nascosto lo spettacolo previsto nei giorni 10 e 11 novembre. Dunque anche per questo 2019 il doppio tramonto di Barga è rimasto un ricordo per chi lo ha visto ed uno spettacolo da provare di nuovo a vedere per gli altri. Tra chi lo ha visto nel corso degli anni l'artista fotografo Kin di Barganews.com che ci racconta l'emozione del suo doppio tramonto. Due volte un anno da 23-24 anni, un anno sì, un anno no, dipende un po' di oggi, guarda com'è oggi, mi sa di no, però veramente non è oggi, veramente le date precise è domani e dopo domani, quindi vediamo, ma mi sa oggi non si fa nulla. Dietro a noi c'è questo duomo cristiano da mili anni, probabilmente c'era roba qui anche prima di quelle lì, quindi qui si parla di roba pagana, pagana dove non è cevello, stomaco. Tra chi non lo ha visto ma ci riproverà, anche il vice capo servizio della Nazione di Lucca Paolo Pacini. In questo caso è in veste di appassionato di foto, anche per il giornale volendo, ma purtroppo oggi è andata così, mi sembra un po' se è nascosto il sole, però risenteremo. La particolarità è anche il fatto che non sei sicuro di trovarlo, di beccare il doppio tramonto e lo rende ancora più raro, ancora più bello da inseguire. Tanti, soprattutto domenica, gli appassionati presenti sul sagrato del duomo. Mi garba, ma oggi la vedo un po' dura, un po' pigia, perché col tempo così, però si sperano un miracolo. Sei riuscito mai in questi anni a fotografarlo? Anno scorso sì, un pochino di foschia ma per fortuna è andata bene. Per rifarsi, per tentare di vedere il doppio tramonto di Barga, l'appuntamento è adesso per i giorni della Merla, il 30 e 31 gennaio 2020.